buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video come vedete sono in bici sono all'aperto e volevo iniziare più che un video fare un vlog magari giornaliero ogni 3 4 giorni e portarvi con me in bici dove farò dei diversi giri e magari anche raccontarvi un po il mio modo di allenamento prima di iniziare con il video vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto di attivare la campanellina per ricevere le notifiche e di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto di lasciare un commento qua sotto nella zona commenti e possiamo iniziare con il video intanto partiamo e vi farò vedere qualche paesaggio adesso siamo in direzione di stenico e dopo scenderemo a ponte arche come avete visto questo paesaggio è il paese delle valge di carie dove c'è ponte arche sopra si trova piaves tumiaga tutta la parte del bleggio santa croce però sono tutti i giri che faremo magari nei prossimi giorni se non fa brutto tempo da come dicono fa brutto intanto ci godiamo le belle giornate e la ripresa della forma della mia gamba perché questi giorni sono quattro giorni che vado e mi sento un po fiacco come avete visto con te arche lo abbiamo passato adesso ha iniziato la salita e vado su agile perché sono i primi chilometri e sono dovuto ripartire tutto da zero ho messo i rodini più morbidi e andiamo su con nostro passo visto che abbiamo quasi 15 20 chilometri di salita tra cui qualche piano così posso reintegrare un po di po di carboidrati e zuccheri il mio modo di allenarmi è un po diverso da quelli che abitano in città perché possono fare i primi mille chilometri in pianura sempre con scioltezza invece io abitando in montagna ho più salita e fa il piani che pianura quindi quindi devo trovare un altro passo anche in salita e andare come se andasse in pianura perciò mettere rapporti più agili e più danare in leggerezza e agile adesso inizio piano falso piano mi reintegro e ci vediamo dopo qui siamo entrati a San Lorenzo adesso siamo in direzione molveno cioè quello che vedete alle mie spalle un bellissimo paese di montagna i 1100 rotti abitanti quello è il mio paese natale dove sono nato e cresciuto e dove vivo tuttora questo è il bellissimo lago di molveno qui stiamo entrando ad andalo un paese di montagna come molveno di circa 1200 abitanti e qui è dove ho imparato a sciare e dove ho iniziato a lavorare in inverno cioè sui rifugi adesso andiamo in direzione fai della paganella e vi farò vedere la città di trento vista dall'alto con tutti i suoi paesi e tutte le sue frazioni quello che appena ha visto è trento con tutte le sue frazioni con la vis gardolo eccetera eccetera e dopo c'è la nostra montagna bellissima la paganella adesso vi faccio vedere qualche foto di fai della paganella e dopo ritorniamo a casa spero che vi faccio vedere qualche video se questo video blog vi sia piaciuto se è così lasciatemi un bel like che mi renderebbe veramente felice lasciatemi un commento se volete vedere altri video blog di questo genere le cose più importanti ve lo avete all'inizio seguitemi su tutti i miei social instagram e facebook e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ciao